Ning viene dal Taiwan e ha deciso di partecipare questa mattina all'incontro con Papa Francesco in piazza San Pietro. Perché decidi di andare là? Per ascoltare? Perché credo che è una invitazione molto speciale. Ho sempre stato molto ammazzato per le amici che abbiamo con le persone dal Taiwan e anche con le persone che ho conosciuto in Europa quando studiavo in Europa. Quindi voglio tornare a vedere queste persone, i miei amici, e anche a vedere cosa sta aspettando in fronte di me. Che piaciuta di più su quanto il Papa Francesco ha detto? Il ha detto sull'impianto di Caravaggio e di St. Matteo, che è stato scelto da Dio. E credo che questo è un momento molto potente e è lo stesso per tutti. e che abbiamo tutti i miei missioni che hanno dato da Dio. Abbiamo le nostre tassi per finire. Quindi mi sono curiosa di vedere cosa è la mia missione. Come hai scelto il movimento? Ho scelto il movimento quando ero un turista in Dublin, una area molto turistica. e ho scelto in un'interessante l'interessante, un'interessante di Flannery O'Connor, un'interessante dell'interessante. E ho scelto con tutti i miei amici, e ho cominciato a partecipare il movimento. E ho scelto con il padre Caron a Londra, dopo aver metto l'interessante in Dublin. Quindi è stato solo due giorni. Il secondo giorno ho scelto con l'interessante, e mi ha scelto con i miei amici. E ho scelto con il quale mi ha scelto, un'interessante che mi ha scelto di venire. Sei felice di essere qui? Sì, molto felice. Molto, molto felice. Cosa puoi lasciare il quale il Pope Francis ha detto questa mattina in Taiwan? Prima credo che ho scelto tutto questo con loro. E oggi ho detto ai popoli che ho scelto a Dio per rendere tutti i nostri diversi. Io sono di Taiwan, io sono di Italia, io sono di Argentina. Ma tutto in tutto, grazie a Dio, abbiamo scelto che siamo tutti i miei amici. Siamo una grande famiglia. Quindi credo che vorrei dire alle persone di Taiwan che siamo molto vicini con loro, anche se stanno guardando l'internet. Ma in realtà siamo tutti collegati insieme. E' davvero possibile e possibile vivere una vita diversa. Credo che avete conosciuto il padre Giussani un po' di più? Sì, sì. Ho sentito la presenza oggi. Alla Grazie a tutti.